Quattro le formazioni finaliste, Francia, Russia, Italia e Romania, ed ora per l'Italia, Erika Sella. Quindicenne, gareggia per la Fortitudo Schio. E' una delle azzurre che lavora agli ordini dell'allenatore russo Climenko, editora Cortigiani. Anche per lei un'esperienza internazionale ai mondiali di Indianapolis dello scorso autunno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti